wow ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech oggi non perdiamo tempo ci sono le offerte del black friday dal 21 novembre al 2 dicembre una miriade di offerte sui prodotti che naturalmente più vi interessano ma se siete capitati su questo canale perché qualche prodotto di domotica vi interessa non perdiamo tempo andiamo a vedere i prodotti che vi voglio presentare che secondo me hanno delle ottime offerte e vi voglio ricordare che questa è l'occasione migliore per coloro che vogliono entrare in questo fantastico mondo della domotica lo costa passatemi il termine o per coloro che vogliono ampliare la propria gamma di prodotti e magari spingersi un po più in là con quelli che sono i prodotti per la domotica di casa io vi ricordo che qui sotto vi lascio il link in descrizione di tutti i prodotti che vi presento per poter effettuare l'acquisto direttamente vi spiego una cosa per quelli che sono più anziani del canale già lo sanno io vi metto questi link una volta cliccato vi rimanda direttamente allo store di amazon potete effettuare l'acquisto a voi non costa nulla di più cliccando su questi link quindi non pagato in centesimo di più e a me amazon corrisponde una piccola percentuale da poter poi investire in prodotti che vi posso presentare in un futuro andiamo a vedere immediatamente le offerte che ho scelto per voi partiamo subito con le telecamere di videosorveglianza della blink sto parlando delle blink outdoor sono quattro videocamere più il sync module ad un prezzo di 123 euro e 99 sono telecamere resistenti alle intemperie sono senza fili alimentate con batterie interne che dichiarano possano durare due anni in più si possono anche collegare ad un'alimentazione con un cavo opzionale di diverse misure abbiamo poi ring intercom il prodotto che rende smart il vostro citofono euro 37 99 controllate bene la compatibilità e in caso di dubbi dopo aver controllato la compatibilità sul sito di amazon perché comunque vi viene specificato sotto se avete ancora dei dubbi contattate l'assistenza e da lì risolverete tutti i problemi abbiamo anche ecco dot di quinta generazione più la presa smart secondo me questa è la combo perfetta per poter cominciare perché abbiamo il nostro assistente vocale di quinta generazione che ha un suono buono in più comanda tutti i dispositivi di casa e la presa smart che dà la possibilità di essere connessa ad una lampada ad esempio e quindi cominciare ad utilizzare la domotica di casa low cost con un kit che già fine a se stesso prezzo 30 euro e 99 andiamo poi sulle fire tv stick 4k più ring intercom una combo un po' particolare ma data la qualità del prodotto fire tv che ne sono state vendute veramente tante e la qualità del ring intercom ripeto dopo aver controllato la compatibilità col vostro citofono il prezzo è veramente interessante 42 euro e 99 se poi volete anche uno schermo sul vostro eco abbiamo eco show 8 di terza generazione più la presa smart anche questa una combo molto interessante se volete lanciarvi già nel mondo degli eco con lo schermo lo schermo vi servirà per poter visualizzare video foto perché fa anche da cornice digitale in più vi darà tantissime informazioni e potrete vedere le ultime news le notizie sportive e tutto il resto il tutto a 99 euro 99 troppo grande 8 pollici e allora passiamo eco show 5 di terza generazione più una presa smart a 59 euro 99 se poi volete un prodotto che sia con audio eccezionale e può essere messo in qualsiasi angolo di casa vostra perché non prendere questo bundle abbiamo l'eco pop più la presa smart a 24 99 abbiamo poi il nuovo entrato in casa amazon l'eco spot questo può andare a sostituire la vecchia radiosveglia che avete sul comodino vi dà la possibilità di poter utilizzare un prodotto con un buon audio e avere tante informazioni sul suo display questo in bundle con la presa smart a 59 euro 99 se poi l'eco pop invece è quello che fa per voi perché compatto e esteticamente molto carino ma volete anche a rendere smart il vostro citofono amazon ha pensato di mettere l'eco pop in bundle con il ring intercom a 44 euro 99 abbiamo poi un prodotto che ho acquistato ultimamente nelle precedenti offerte del quale mi sono trovato veramente bene del quale posso parlare solo che bene sto parlando del blink mini pan tilt camera 26 99 abbiamo la telecamera di seconda generazione con il motorino sotto per poter far ruotare la telecamera e controllare ogni angolo di casa nostra blink outdoor più flood light flood light è quell'accessorio che può essere montato sulle blink outdoor per rendere più visibile le zone più nascoste del magari la parte esterna di casa vostra si arriva a 700 lumen ad un prezzo di 54 euro 99 queste sono le offerte che ho selezionato in questo momento per voi ce ne sono tante altre magari farò un altro video perché per esempio c'è l'eco auto ci sono non solo i bundle ma ci sono anche i prodotti fisicamente venduti singolarmente quindi ad esempio l'eco pop l'ecospot gli eco show ci sono tante offerte quindi pensavo di cominciare in questo modo per rendere un po più semplice l'acquisto di un bundle e darvi la possibilità di cominciare immediatamente ad utilizzare in maniera un po più completa il nostro assistente locale perché purtroppo a volte viene utilizzato solamente per chiedere delle banalità come stai che tempo fa fuori che ore sono cominciate a usarlo in maniera un po più seria cominciate con una presa smart e vedrete che piano piano amplierete anche voi la gamma di prodotti in casa vi ricordo che i prodotti che vi ho presentato sono disponibili alcuni in varie colorazioni quindi sto a voi andare in basso scegliere il colore che più vi interessa ed effettuare l'acquisto ribadisco qui sotto trovate tutti i link per poter effettuare l'acquisto direttamente senza andarmelo a cercare voi sul sito di amazon altra cosa importante sulla versione del cellulare piuttosto che di un tablet amazon ha messo delle domande che solitamente vengono fatte e quindi vi basterà alzare la finestrella e andare a leggere se tra quelle domande ci sono delle risposte che vanno a eliminare i vostri dubbi l'ultima cosa vi ricordo che avete la possibilità di effettuare l'iscrizione totalmente gratuita al canale lasciare anche un mi piace perché comunque male non fa mi aiutereste tantissimo a far crescere questo canale e se poi veramente vi siete affezionati e ci volete offrire un caffè c'è anche la possibilità di effettuare una donazione detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video con altre offerte in questi giorni non vi preoccupate non vi abbandonano al prossimo video ciao ciao